Né nera né meno bianca e fumata grigia, insomma, al termine dell'incontro tra le parti. La società del Biceglia, guidata dal presidente Nicola Canonico e l'attuale tecnico di Nera Azzurro Stellati, Sandro Pokesci, hanno deciso di non decidere in maniera definitiva dopo la riunione di ieri sera. Avrebbero scelto, raccontano i ben informati, di prendersi 48 ore di tempo per capire se sarà il caso di continuare il rapporto di collaborazione. Per restare al timone, a quanto pare, avrebbe chiesto delle garanzie tecniche e non solo dall'allenatore dei Bicegliesi, riferendosi evidentemente sia ai rinforzi per la prossima finestra di mercato che alle questioni organizzative. Voci sempre più insistenti hanno raccontato nei giorni scorsi di una squadra, di uno staff costrette ad affrontare trasferte in pullman con cene e pranzi al sacco, in alcuni casi anche complicate dal punto di vista logistico come quella del turno infrasettimanale con il Catania o di pasti pagati di tasca propria, come è accaduto domenica scorsa prima del derby e perso al Ventura con il Bari. Racconti tra l'altro confermati pure dai dimissionari dirigenti autoctoni nel corso della conferenza stampa di ieri pomeriggio. La situazione che sta vivendo in queste settimane la principale realtà calcistica bicegliese è tutt'altro che idiliaca, insomma. Erano emerse anche preoccupazioni circa il pagamento di stipendi e contributi, ma le informazioni che circolano nelle ultime ore raccontano di scadenze regolarmente rispettate dalla società entro i termini stabiliti dalla Lega Pro. Il Biceglie attraverso i propri canali continua per il momento a preferire la strada del silenzio anche se sembra imminente una nota ufficiale sulla vicenda. I prossimi giorni, inutile nasconderlo, saranno giocoforza decisivi per conoscere il futuro di Pokesci. Il tecnico dei Nerazzurro Stellati continua nel frattempo a dirigere gli allenamenti, ma la sua posizione in panchina non può considerarsi blindata dopo l'incontro di ieri con la proprietà e dietro l'angolo c'è già un nuovo impegno ufficiale in campionato sabato sera dall'anticipo della quindicesima giornata al Veneziani contro i Monopoli.